Caro Calà, hai nominato dei cinema cult, dove tu eri protagonista e lì trovi anche l'amore. Cioè lo dici come incredibilmente, scusa, cosa vuol dire? Scusate ma da ieri che faccio fiocco lì dalla roba. E tu eri protagonista e trovi anche l'amore. E formate una delle coppie più richieste del momento con Maravignet. Sì, che lì c'è una cosa stranissima perché noi ci siamo conosciuti per fare il mio primo film da protagonista che era Vado a vivere da solo. E lì insomma ci siamo messi insieme. Lei ha fatto una scena del film e poi è stata tagliata. Però con il suo consenso, perché Marco Risi che era il regista gliel'ha chiesto perché il film era lunghissimo. Però la cena è stata tagliata, però io e lei poi siamo rimasti insieme qualche anno. Cazzesco! Infatti è una storia vera che li vedo commossi. Cioè non ve ne freggo, proprio niente ne ve ne fregato. E lì c'era la mia mamma, quella era la mia mamma Rosetta. Eravamo nel mio ristorante sul lago di Garda, al Trecabini, un ultimo dell'anno con mia mamma anche. E c'era anche la mamma di Mara. Chi l'ha scattata la foto? Fabio Testi. Davvero? Sì. Ti ricordi tutto? Certo. Fantastico.